Musica Cambierei per solo una cosa personale Haru dal gruppo e mettiamo Ryuji Metto Ryuji perché se il suo potenziamento funziona i nostri attacchi fisici avranno un bel bonus Bene, avanziamo Quella cosa ci aspetta Credo che questa sarà la nostra battaglia finale Sei pronto Joker? Andiamo Suppongo fosse una domanda superflua Beh, andiamo Oh ma guarda Sta cercando di chiuderci fuori Meno male che abbiamo il rampino allora Sì, vabbè, Spider-Man figa Ribelli, avete scelto di ripudiare la prigione del decadimento Perché voi, miseri umani, usate ancora opporvi a me? Piantare di parlay come se fosse un dio Sei solo un tesoro come un altro Chiudi la bocca e arrenditi Stolti, ancora non capite? Le vostre azioni non salveranno una singola anima Come pensate che ci sia riuscito a diventare un dio? Cosa vorresti dire? La libertà di non dover scegliere La libertà di non dover pensare Nessuno si sentirebbe più vessato dalla responsabilità Se le si potesse scaricare su qualcun altro E chi pensate che si sia offerto di accogliere su di te stale fardello? Vuoi dire che si tratta di te? Precisamente, è stata l'umanità stessa Volere che il santo Graal fosse un dio capace di dominarla Se continuerete a rifiutare questo nuovo mondo Non avrete mai un posto al suo interno E allora? Dunque vi opponete Anche se questo significa rinunciare alle lodi di coloro che volete salvare Non ci faremmo più condizionare da ciò che pensano gli altri Proprio così Se non intendete obbedire allora soffrirete ancora una volta Farò calare il martello della giustizia su di voi Che usate minacciare il mio ordine assoluto Vieni santo Graal Vieni, questa volta non finirà come la prima Io sono colui che esaudisce i desideri delle masse Io do vita alla loro voce Certo, certo, iniziati pure a curare senza motivo Se non facciamo qualcosa per quelle linee di rifornimento che pompano sangue Non finiremo mai Anche il vostro avversario lo sa Se lo attacchiamo direttamente cercherà di fermarci Dobbiamo mandare qualcuno a togliere i rifornimenti Dopodiché tutti dovranno continuare ad attaccare per distrarre il santo Graal Perfetto Darò un bel taglio a quei cosi rossi Vai pure Ryuji allora Mi fido di te L'hai già fatto con Kamoshida Quindi Forza E ora È il momento di Caricarci Makoto Anzi Han Concentrati E tu Makoto Debilitalo Don't ask I'm ready Cos I'm ready Nananana Wow Quanti danni che fa il signorino eh Ribellati Phoenix Han Inferno di fuoco Uh 2300 Grande Han La felicità della popolazione dipende dalle mie regole Chi non lo capisce deve essere eliminato Sembra che non sappia che sono qui Un po' più avanti Ci sono quasi Occhio Ryuji non cadere E non farti sgamare soprattutto Makoto Fungo atomico Adesso si curerà Ovviamente Io ho aspettato per attaccare Perché voglio vedere se riesco a fare una roba Anche se non credo Ragazzi Così non va Dobbiamo prima tagliargli i rifornimenti Ma va E se Ryuji è ancora lì che posso farci Futaba Scusami Assautobi Ok Con un solo colpo più di metà Massi che levano l'odio al santo graal sono sconfinate I loro desideri e la loro forza Si mi conferiranno l'immortalità Piantala di delirare Bene E' ora di tagliare Forza Skull Distruggili E vabbè però Ha funzionato Che ve ne pare Non sto ricevendo più la forza dei prigionieri Sto gustosi ribelli Non può più curarsi D'ora in poi sarà uno scontro all'ultimo sangue Abbattetelo Perfetto Skull Caricati allora Concentrati Han Tumakoto Fungo atomico di nuovo Wow Wow 2000 Incredibile Carico e concentrato Grande Futaba Grande la mia bimba Sta caricando eh Beh siamo tutti quanti concentrati e carichi vedo E allora Con la tua luce vuoi distruggerci? Con la mia luce invece io Ti fermerò 1600 a colpo 1600 a colpo E il santo graal fu distrutto E' stata una battaglia difficile Cosa pensavate che lo scontro finisse così? Una sola fase per il boss finale? Non fatemi ridere Io sono il dio supremo Quando è che ci siamo innalzati così tanto al cielo? E' stato un attimo Questa è una La toffa La toffa La toffa Questa è una Questa è una La tuffa In tutto il suo splendore Io sono l'amministratore generato dall'inconscio umano collettivo Sono Yalbatot, dio del controllo È una follia, è grosso quanto un edificio Ed è più enorme di quanto lo era il Santo Graal È compito dell'amministratore condurre l'umanità verso uno sviluppo adeguato E ora che non vi sono più i più dubbi sulla stupidità umana È mio dovere mettere in atto la purificazione Stai scherzando? Sei stato tu a cominciare questa buffonata? Le stolte masse hanno solo saputo diffondere idee pigre e banali Facendo così regredire la società Nelle mani degli uomini il mondo è condannato La riabilitazione è impossibile ormai Questo non significa che gli umani sono malvagi È vero, ci sono molti cittadini onesti Ma non fanno altro che imboccare la via di... dinanzi a loro Compiere delle scelte è sempre motivo di sofferenza per gli umani Anche se la loro strada conduce verso la rovina Queste capre non smetterebbero di percorrerla Stronzate, stai solo imponendo le tue idee egoiste sulla gente Hai un sacco di pregiudizi per essere un dio Se no, sei per il bene dell'umanità Non ti piacerebbe farti dare una bella ripassata dagli uomini? Io sono l'entità che governa questo mondo Il suo futuro dipende unicamente dalla mia supremazia Coloro che oseranno sfidare questo ordine naturale Si imbatteranno nella punizione divina Ah, quell'essere è su un livello completamente diverso Possiamo davvero sconfiggere una cosa del genere? È un miglior risultato possibile Stiamo per batterci contro un dio che non risparmierà un colpo Quale obiettivo più grande potrebbe mai esserci per i ladri fantasma? Però, devo dire che è un po' troppo grosso per i miei gusti Mi impegnerò con tutte le mie forze per aiutarvi con la navigazione Possiamo farcela se lavoriamo tutti insieme Facciamolo a pezzi Coronare le nostre imprese con la sconfitta di un dio Questa sì che è arte Non dobbiamo fare altro che prende qualcosa allegnato, è giusto? Cavoli, siete il miglior gruppo di idioti che potessi sperare di conoscere Sono felice di aver fatto parte di questa squadra Chiudiamo con una vittoria Ci riprenderemo tutto Il nostro futuro E questo mondo Beh, che dire Che dire Ribelli che osano sfidare la mia legge Morirete tutti Vediamo, hai resistenze o altro? Sembrerebbe di no Però Non vorrei dire Ma credo che potrebbe Potrebbe essere resistente alla luce Noi concentriamoci Proviamola questa cosa Dimostrami il contrario Yalbatot Tu Ryuji Caricati Han Tu Concentrati Ma Makoto Prima andava Prima di Han Com'è che adesso Han va più veloce? Vabbè E tu Makoto Debilitalo Oh, mi ha colpito Incredibile Credo sia un attacco divino Per quello mi ha colpito E allora tu usi le frecce di luce? Io uso le mie frecce splendenti Oh, ma guarda Con un colpo Quasi metà vita Ryuji Sconfiggi un dio Con mano di dio 2005 Inferno di fuoco Inutile dire Che quando ho fatto questo scontro La prima volta Non ero così preparato E beh Il signorino Faceva molto male Faceva molto male Mi ha richiesto molto tempo Farlo questo scontro Ho scatenato su di voi Il peccato capitale Della lussuria Non avete possibilità Di fuga Umani La voglia dell'umanità Vi condurrà alla rovina Avrei dovuto tenere Aru però Per questo Ecco perché Ce l'avevo in squadra Per evitare queste cose Gli è cresciuto un braccio Ed è pure armato Oh bene Che attacco è questo Uno dei peccati capitali Dell'umanità Non abbassate la guardia Finchè ne Non scopriamo cosa fa Io intanto Mi concentro di nuovo Ryuji Tu Caricati di nuovo Han Tu invece Non ho il carry del maestro Com'è possibile Vabbè Non importa Usa la carota Su Su Makoto Dobbiamo ricaricarla Intanto che non può agire Usa di nuovo Debilitazione Perfetto Esteso Ha funzionato Ho scatenato su di voi Il peccato capitale Della vanagloria Non avete possibilità Di fuga Umani La disonestà Dell'umanità Vi condurrà alla rovina Nei turni In cui io mi carico Però è facile Prendere le armi Un altro E' una campana Fate attenzione Non abbiamo idea Di cosa possa fare A chi colpirai Questa volta Tutte le ha finita Sta prendendo Un attacco diverso Un altro peccato capitale Che significa Tutto questo Io mi sono concentrato L'importante Era quello Vediamo un attimo Le debolezze Riflette il vento E riflette il fuoco Ok Vento e fuoco Eliminati di default E allora andiamo Di nucleare Odino Esplosione nucleare Oh 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 Le tue armette Sono andate Mi dispiace Yaldatot Ryugi Mano di dio Oh ma guarda Quasi andato Mi dispiace Inferno di fuoco Sono troppo preparato Per te Yaldatot Infine Fungo atomico Oh ma guarda Ti sei pure Ricaricato Ma pensa un po' Yaldatot Siamo arrivati Alla fine L'abisso dell'inconscio Brama la rovina Definitiva Non avete possibilità Di fuga Umani Il castigo Vi colpirà Tutti Mentre attraversate Le porte Della distruzione Quello è un attacco Bello potente Cos'è questo picco di energia Credo stia arrivando Un attacco da paura State attenti Vorrei concentrarmi Anzi vorrei caricarmi Se possibile Proviamo a colpirlo Con tutto ciò che abbiamo Colpisci noi tutti Ok uno di loro Ha ribaltato l'attacco Eppure Ryuji Ha distrutto un dio Io volevo fare Il colpo finale figo Ma ci ha pensato Ryuji Il colpato finale figo 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 Quindi è questo il potere che risiede nella rovina. Ce l'abbiamo fatta? No, non ancora. Il mio controllo non si piegherà alla rovina. Il mio controllo è la verità suprema di questo mondo. Io volevo fare l'attacco finale figo e ci ha pensato Ryuji con un fulmine. Vabbè è uguale, è forte. Se davvero fossi un dio, guideresti l'umanità verso i tuoi ideali. E invece la stai distruggendo solo perché non sei capace per vantarti della tua stessa esistenza. È per questo che ci osservi, dovevi farlo perché la reazione delle masse ti spaventava. Sembra proprio così. Non so quanti anni hai, ma sei l'esempio perfetto di vecchio rompicoglioni. Gente così, la trovi ovunque. Quante idiozie. E questo cos'è? Merda, non vedo niente. Desidero annientarci fino a questo punto. Ragazzi. Il mondo vi ha abbandonato. Non c'è più alcun posto per voi. Non possiamo perdere così. Sei benissimo sconfitti. Il mondo... Devo... Devo rialzarmi. Mi sento debole. Non ce la faccio. È la fine. N'è concesso alcuna forma di imprevedibilità sotto il mio controllo. Per forza, la gente è disperata ora. Tu ne trai vantaggio. Riuscite a sentire le voci delle masse. Mi scherniscono per esservi opposti a un dio. Gli uomini non sono altro che grumi di desideri. Un mondo governato da simili esseri può solo regredire. Ribellarsi a un dio è un peccato estremamente grave. La sofferenza eterna sarà la vostra punizione. Non lo permetterò. Il servitore generato da quel che restava della speranza umana, eh. Una misera nullità come te non può ribellarsi e ribaltare il mio verdetto. Anche la speranza umana è un desiderio. Non ti conviene sottovalutarla. I ladri fantasma non si arrenderanno mai davanti a nessuno. E anche se rimanesse uno solo di noi, continuerebbe a combattere fino alla fine. E senza ombra di dubbio. Ci riusciremo. A riprenderci il mondo. Aiuto, mio Dio! Una persona è appena scomparsa. Ma che diavolo? Che sta succedendo? Fate qualcosa, maledizione! Non siete la polizia! Per favore, stia calmo! Signore, che sta succedendo? Niente da fare. E senza ombra di dubbio. Riusciremo. Eh? A riprenderci il mondo! E quello cos'era? I ladri fantasma? I ladri fantasma non erano forse... Non si erano... Non si sono ancora arresi. Possono davvero fare qualcosa per una situazione del genere? Ho i brividi. No, è impossibile! Non c'è alcun modo! Ho i brividi, ho i brividi. Perché il primo che crede in noi è proprio Mishima. Guardalo in mezzo a tutti! Bravo Mishima! Che bello che tutto questo è partito grazie a Mishima. Forse ci sbagliavamo. E quello lì suona la chitarra, vabbè, dai. Bellissimo questo pezzo. Perché tu hai subito il fascino dei ladri fantasma. Su giro! E ci può contare. E lo stesso vale anche per lei. Sì, o meno. E a quanto pare non siamo i soli. Non ti lascerò fallire. Non dopo tutto quello che hai passato. Porta a termine quello che hai iniziato. Magari non sembrerà così. Ma ripongo grandi speranze in voi, ragazzi. Cercate di non deludermi. Vinceranno. Se faccio il tifo per loro, allora farò un tifo esagerato. Dopo tutti i cuori che avete risvegliato, non lascerò che veniate sconfitti. Avete la capacità di opporvi a qualsiasi destino prestabilito. State scatenando una vera rivoluzione. Avanti così. Guarda avanti, continua a lottare. Sei stato tu a insegnarmelo, dopo tutto. Ho sempre fatto il tifo per voi, ragazzi. E continuerò a farlo. Siete la nostra unica speranza. Vi prego, mettete fine a tutto questo. È colpa vostra se non so più a cosa significa arrendersi. In piedi, avanti. Non dategliela vinta. Non importa cosa dice la gente. Io credo in voi, ragazzi. Forza, ladri fantasma. Conto su di voi. Avrò fiducia in voi fino alla fine. Ho la pelle d'occa da tutte le parti. Hai sentito quelle voci? Sono gli uomini di cui ti sei preso gioco finora. Nessuno vuole essere governato da te. Dico bene, Fionix. Che bello. Devono proprio usare quel tono per dire queste cose. Ma stanno facendo il tifo per noi. Eh, niente male come sensazione. Forza, Yusuke. Dovranno ripetercelo due volte. Non ci lasceremo annientare. Daremo tutto quello che abbiamo. Accidenti. Eh, Dio, colui che crea il mondo. Ho deciso. Porterò a compimento la mia giustizia e per il bene di tutto ciò che amo. Morgana. E lo stesso vale per voi. Ragazzi, se volete salvare il mondo, restate fedeli ai vostri ideali fino alla fine. Sconfiggiamole insieme. Ehi, tu, Dio. I tuoi stupidi umani stanno pregando laggiù. Pregano perché tu possa sparire dalla faccia della terra. Rivolgi a quel Dio malvagio il tuo ultimo avvertimento, Fionix. Hai scelto i nemici sbagliati. Vai, lagri, forza! Dai, condividiamoli, forza! Bravi! Brividi da tutte le parti. Che bello sto pezzo. Mamma mia. Arsene, la nostra prima persona, sta ricevendo il suo potenziamento ultimo. Bello. Mamma mia. Bello sto pezzo. Mannaggia. Guardalo che splendore che è. Mamma mia. Cioè, allora, noi abbiamo la versione minuta. Questa è la versione potenziale massimo. Guardalo. Guardalo. Questo è... Cavolo, è gigantesco. Che potere immenso. Non può essere. È una persona. Anche lui c'è la stessa corona che gira. Tutti HP e SP recuperati. No, gli SP no. Che tristezza. Stolti. È per questo che l'uomo è spacciato. Vi spiace. Siamo protetti dalle masse. Impossibile. Che bella sta parte, Cristo. Capisco. Se un mio fa il cattivo è compito di un signore dei demoni punirlo. Non può esistere un finale più appropriato per un trickster. Joker, ti affidiamo la nostra forza e la speranza della gente. Metti fine a questa storia. Di cosa parliamo? Di cosa parliamo? Satanael. Proiettile del peccato. Proiettile creato dai sette peccati capitali. Può ferire anche un dio. Cosa ne parliamo a fare? Stiamo guardando il cielo attraverso il cranio perforato di un dio. Cosa ne parliamo a fare? Non ho nulla da aggiungere. Nulla da dire. Che l'immenso potere. Surclass ha persino il mio. Un dio generato dalla volontà delle masse. Dunque è questo. Il vero trickster. Quel dannato Igor. Le sue non erano soltanto assurdità dopo tutto. Bello. Il dio generato dagli uomini. Chissà se Berserk finirà uguale. Guardate. Il tesoro finale. Eccolo lì. Quello non è un tesoro. Ehi Mona. Grazie a tutti ragazzi. Mona-chan. Mona? Puffe te. I uomini hanno il potere di cambiare il mondo. Lo avevano solo dimenticato. Ehi. Grazie a voi sono riuscito a portare a termine il mio compito. È stato tutto grazie a te Morgana. Ma non è così. Sei straordinario. Ho avuto l'opportunità di rendermi utile per degli uomini che ammiro moltissimo. Nulla poteva farmi più felice. Presto anche questo posto scomparirà. È ora di tornare a casa. Che bello. Ma che diavolo? Cosa succede? Cosa succede? Cosa succede? Cosa succede? Cosa succede? Sono già triste. Sono già triste perché so cosa sta per succedere. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Che bello Miau Ma dai E O, come on O Hata. Leandro B, come on. ев contemporary mar VI Roger Non è vero, non è vero. Che bello Orca troia che bello Oh Morgana Mona Il Metanave è sparito E devono essere spariti anche i Memento Non vedremo Mona mai più, vero? Chi può saperlo Va bene così Conosco già la risposta Cosa sono quei musi lunghi? Mona si farebbe una risata a vederci così Ora che ci penso Cosa ne è stato dei cittadini? Siamo riusciti a risvegliare i loro cuori Farò tardi al mio appuntamento Devo passare il Natale da solo, eh? Non saprei Allora il nuovo anno inizierà senza un primo ministro Come se ne caverà questo paese? Eh, di sicuro non sarà Shido Girano un sacco di brutte voci su di lui Chissà come andranno le cose Speriamo bene Dobbiamo avere fiducia negli adulti Mia sorella ci ha fatto una promessa dopo tutto D'ora in poi ci penserà il procuratore, eh? Non potendo più entrare nel metaverso Non vestiremmo mai più i panni della del fantasma È una cosa un po' triste Come ho detto Niente busi lunghi Pensate al colossale culo che abbiamo appena fatto Preso a calci Hai ragione Dovremmo festeggiare con un brindisi Beh, siamo ancora liceali Quindi non possiamo davvero brindare Mi va bene anche della coca Ho fame E se provassimo altro? Tipo, cosa fanno gli atleti dopo una vittoria? Beh, potremmo metterci in cerchio orla Insieme alla vittoria Mi piace È solo che siamo nel mezzo di Shibuya E in mezzo a migliaia di persone Cosa? Vuoi farlo davvero ora? Forza, Ryuji Datti una mossa Sono alquanto deluso Dopo tutto ciò che abbiamo passato Non abbiamo neanche... Non abbiamo niente da perdere Parla per te Ho un sacco di roba che potrai perdere Va bene Facciamola finita Gente, qua la mano Non credete che dia un po' troppo nell'occhio? Sì, ecco Possiamo fare in fretta Non mi dispiace urlare Basta che ci diamo una mossa Beh, questo festeggiamento sta andando alla grande Vabbè Joker, inizia tu E va bene Già, è il momento dei doveri del leader Quando parte l'urlo di vittoria E noi gridiamo a tutta forza Sì Ok, va bene Uno, due Abbiamo risvegliato i vostri cuori Mi ha fatto davvero sentire un po' meglio Sembra che tutto sia finalmente finito Forse hai ragione Più ci penso Più mi rendo conto della pressione che avevamo addosso Spero che potremo rilassarci un po' Ah, che freddo Sta nevicando Ecco perché è tutto sto freddo È questo, quello che chiamano un bianco Natale Però è ancora la vigilia di Natale Natale, me ne ero completamente dimenticata Comunque ora dovremmo stare a vedere cosa succede Sarà meglio salutarci per oggi Incontriamoci domani alle Blanc Per un'ultima riunione della situazione D'accordo, facciamo così Ehi Sarà il giorno di Natale Perché non festeggiamo un'ultima volta? Mi piace Ehi, mi auguro che nessuno di voi abbia già preso degli impegni Allora è deciso Fai in modo di convincere il capo a lasciarci il locale per la nostra festa Certamente Contiamo su di te Bene dunque, a domani Sono in pensiero per il suo giro Vado a casa Oh, è la prima che se ne va Dovremmo tornare anche noi E siamo rimasti da soli noi ora Vuoi salvare i tuoi progressi attuali? Sì Grazie a tutti Grazie a tutti